L'uomo è un essere di transizione, non è un essere definitivo, poiché in lui e molto al di là di lui si elevano i radiosi gradini che ascendono a una divina sopraumanità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sarò e se cadi amore vengo a prenderti, devi cominciare ad arrenderti, spero tanto che sia io il tuo Dio. E verrò su un cavallo bianco per riprenderti, vestirò di fango per sorreggerti, oh vita mia sei tu per me. Siamo foglie ricucite, al tramonto tu sarai con me, ogni giorno luce, tu mi dai, dai, dai. Siamo soli senza stele, abbracciami. Vedo uomini nuovi, pronti a salvare. E l'uomini 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 nuovi, pronti a salvare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.